Bene, linguine eri tu? ... No! Ho visto Vic passare E Luigi Ho trovato il cadavere verde Quindi uno dei due Ragazzi visto che era l'ultima vado Che sono morto Ciao Io stavo andando in Rattore A fare Come che si chiama Che qualcuno aveva attivato Qualcuno Un impostore Stavo cercando di cliccare report Ma mi si è mosso anche La freccia Io manco ho visto nulla Ma dov'è che mi sono trovato? Nel corridoio Dove si va in caffetteria Che tra l'altro siamo stati Tanti in caffetteria Dove sono finiti tutti? Io stavo andando in Rattore A fare l'emergenza Io ero con tua madre A fare Che ero Che ero in decontamination Interessante Adesso che c'era la tasca del Rattore Chi era il Rattore? Io e tua madre Io stavo solo andando in Rattore Io stavo solo andando in Rattore Tu e tu chi? Alien e tu madre Ok Chi stava invece più il lato sopra diciamo Dai Luigi parla parla inizia a ragionare Io che ho fatto la task in office Solo tua E anche Boo Chi è salvo dove eravate? Io prima sono stato in Admin A fare la task della carta Io l'artista che ho fatto E poi E perché non l'hai detto? Ho domandato chi c'era sopra No perché io poi stavo andando in decontamination Quindi io pensavo che te dicevi che Chi era in Admin Una cosa Sei andato in decontamination Prima o dopo l'emergenza? Ah prima ho fatto le task Poi ho visto l'emergenza E stava andando in Rattore A fare l'emergenza Comunque io E non mi ricordo chi adesso Una volta Tipo quando siamo passati C'è stato qualcuno che è passato Tra caffetteria E avventato in caffetteria Non so dove È vero Cacchio Teoricamente Chi era in Admin era l'impostore Ora non so chi è Comunque Chris Stava in Admin Anche lui Però no io sono sceso poi in balconi Infatti quando è partita l'emergenza Era in balconi Che ha votato me? Ma che Tutti a Ma aspettate Non ho capito il gioco Tutti a votare Anche io E le altre persone a caso Per quale motivo? Poi vabbè Beh poi si spiega dopo Strano che mi votano Quando sei impostore Nessuno che va a fare La tasa al reactor Interessante Fai il linguistico? Solo russo? Corri via Lolla Ti conviene? Prima che io Ti spezzi due Hello 4 5 7 8 9 10 Beh io qua Scappo Non ve lo sta qua Che problemi mentali Stai avendo Roberto? Perfetto Io sono sceso Appena Diciamo finita L'emergenza Cacchio Mi sa che erano tutti da dentro Poi sono saliti in caffetteria Sono stato quasi tutto il tempo L'affare palco Poi c'era qualcuno Che mi stava seguendo Forse era Lolla Giusto? Che colore sei? Sono in rosso Sì Allora sì Che sono sceso Io sono in anime Beh fare una task E non mi ricordo Poi ho trovato il rosa Sullo scan Allora Vic Te dovevi? Solo una domanda In caffetteria Fa la task Dere bevande Sì L'ho vista anch'io Prima che inizi tutto L'ambara down Perché salvo Non si attivava Il reactor? C'è stato tipo 5 minuti L'ho aspettando No perché tipo Mi stava laggando il gioco Perché infatti tipo Io vedo la gente Che si teletrasporta Poi non so se me Io ti stavo aspettando Da 3 ore Vicino al reattore Che tu venivi Sì ma mi sta laggando il gioco Quindi mi prendono gli scatti Tu madre Te dovevi? Mentre Ti ho capito Salve e Lolla Stavano insieme Io e Vic Stavano insieme Sì che Lolla Mi stava seguendo Tu madre e Kri Eh tu madre Manco visto Tipo neanche una volta Forse Kri Mi sembra di averlo visto In reactor Che faceva la Cosa della memoria No Io Da questa partita Ho fatto Rallata Scream In balconi E dopo Sono andato in green house Io ero A fare cose In greenhouse Io chi è andato in green house A fare le task Quale Me lo chiedi pure Scusa La task Di fiori Ragazzi è andato in green house Tu madre Come mai stavi Proprio dall'altra Dall'altra parte del corpo Coincidenza Dove è stato trovato Il corpo I miei Bain Mid bay Mad bay Mad bay Scusa Mad bay Mad bay Mad bay Suona strano In tutti e due sensi Per me Comunque Vabbè che si frega Che volete fare Aspettate Qualcuno ha visto Tommi a prendere L'annaffatoio Salve e lolla Stavano fuori In quel momento Quindi o è salve e lolla Perché è uno dei due Ma siamo andati insieme Da reattori In poi Siamo usciti insieme Sì E se siete tutti e due Proprio Grazie Io non lo so Non si parla Non si parla Questa non l'ho ancora fatta Io Vigma come ci siamo ripresi Nice Nice